Ieri sera gli uomini della Guardia Costiera di Crotone hanno sequestrato circa 150 kg di tonno alla lunga sbarcato illegalmente nel porto di Ciron Marina. Il prodotto non tracciato, pescato illecitamente in acque locali, era diretto verso imprese commerciali del territorio nazionale, privo di qualsivoglia documentazione che ne attestasse la tracciabilità. L'operazione di polizia è stata condotta nell'ambito di mirati controlli lungo la filiera della pesca che stanno interessando tutta l'area crotonese. In questo periodo dell'anno è infatti vietata la pesca del tonno alla lunga e ne è sempre proibita la commercializzazione senza certificazioni di cattura, documenti di trasporto e fatture di vendita. Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno intercettato nel porto di Ciron Marina sei casse contenenti una dozzina di grossi esemplari di tonno. Il prodotto, del valore di circa 500 euro, è stato immediatamente posto sotto sequestro. Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa di euro 1.500. Il prodotto etico sequestrato, tenuto in contenitori non idonei, è stato dichiarato dai veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone, non edibile e pertanto avviato a distruzione. Solo pochi giorni fa la guardia costiera di Crotone aveva eseguito un altro sequestro nel porto di Le Castella nel comune d'isola Caporizzuto di circa 700 kg di lampughe. Proseguiranno i controlli lungo l'intera filiera della pesca, sia in mare che a terra, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di cattura, produzione, trasporto e commercializzazione dei prodotti della pesca su tutto il territorio crotonese, per la salvaguardia dell'ambiente e per la salute del consumatore. Grazie. Grazie. Grazie.